Buongiorno e buon anno a tutti dato che questo è il primo video del 2022. Come saprai attorno al 20 dicembre scorso governo e maggioranza hanno concordato il testo definitivo del disegno di legge per la manovra finanziaria 2022. Testo blindato che il 23 dicembre 2021 è stato approvato al senato e il 30 dicembre è stato approvato anche alla camera dei deputati diventando la legge 30 dicembre 2021 numero 234 pubblicato in gazzetta ufficiale il giorno 31 dicembre 2021. La nuova legge finanziaria 2022 ha modificato pesantemente gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio e quindi il super bonus. Data la quantità di novità per evitare video lunghissimi abbiamo pensato di parlartene in vari video. Nel precedente video di ultime notizie ti ho mostrato le principali novità del super bonus per le abitazioni unifamiliari mentre oggi vedremo insieme i casi degli edifici unico proprietario da 2 a 4 appartamenti e dei condomini. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto metti un bel like e partiamo. Ciao sono l'ingegner Marcello Contu e in questo video ti mostrerò le 4 più grosse novità per chi vuole fare i super bonus nel 2022 sul suo edificio unico proprietario o sul condominio nel quale vive. I riferimenti normativi sono sempre gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio così come modificati dalla recentissima finanziaria 2022. Come sempre meglio ricordare cosa intendiamo con edificio unico proprietario. L'articolo 119,9 lettera del decreto rilancio parla di virgolette interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. E anche se in questa definizione si parla di unità immobiliari l'agenzia delle entrate ha specificato che si intendeva da 2 a 4 appartamenti. Quindi parliamo di interi edifici di proprietà della stessa persona o degli stessi comproprietari che siano composti da vari catastali dei quali 2, 3 o 4 sono appartamenti. Come abbiamo letto nell'articolo 119,9 lettera A questi edifici vengono parificati e condomini in tutto e per tutto quindi principalmente per massimali e scadenze. Dato che i massimali non sono cambiati in questi mesi passiamo direttamente alle nuove scadenze di cui si parla nel nuovo comma 8 bis dell'articolo 119 del decreto rilancio appena sostituito dalla finanziaria 2022. Secondo le vecchie regole i condomini avevano tempo per realizzare l'intervento di super bonus fino al 31 dicembre 2022 mentre gli edifici unico proprietario avevano tempo fino a fine 2022 solo realizzando almeno il 60 per cento dei lavori entro il 30 giugno 2022. Con la nuova finanziaria le scadenze per condomini ed edifici unico proprietario vengono unificate al 31 dicembre 2025. Si tratta quindi di una proroga di tre anni che sommata questo 2022 appena iniziato da ben quattro anni di tempo per la realizzazione dei progetti di super bonus in questi edifici. Quello che cambierà con l'avanzare degli anni sarà l'incentivo che scenderà gradualmente. Per tutto il 2022 e il 2023 l'incentivo dei super bonus sarà ancora al 110 per cento mentre scenderà al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e a 65 per quelle sostenute nel 2025 raggiungendo quindi il valore dell'attuale ecobonus. Direi quindi un'ottima notizia per chi vive nei condomini o possiede edifici unico proprietario. Come sempre vale la regola del prima ti muovi maggiore è il tuo beneficio. L'unica eccezione a quanto visto al punto precedente vale nei comuni dei territori colpiti da terremoti dopo il primo aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Mentre in tutti gli altri comuni l'incentivo scenderà gradualmente col passare degli anni come appena visto al punto precedente in questi comuni il beneficio resterà al 110 per cento anche per le spese sostenute negli anni 2024 e 2025. Ce ne parla il nuovo comma 8 ter dell'articolo 119. La terza eccezionale novità per chi vuole operare su edifici unico proprietario e condomini sta nella risoluzione di un problema avvenuto fuori alcuni mesi fa. Il disallineamento delle scadenze tra interventi trainanti e trainati. Il primo che ha evidenziato questa criticità è stato il caro collega ingegner Gianluca Oreto direttore responsabile dell'attestata giornalistica lavoripubblici.it. Infatti già alcuni mesi fa Gianluca sottolineava che con le vecchie regole la scadenza del 31 dicembre 2022 valeva solo per le opere sulle parti comuni ad esempio il cappotto sulle facciate o il rifacimento della centrale termica condominiale. Invece per i lavori trainati da realizzare sulle singole unità immobiliari come il fotovoltaico, le batterie o la sostituzione dei serramenti la scadenza era quella del 30 giugno 2022. Questo disallineamento di scadenza era stato poi confermato dalla direzione regionale Emilia Romagna dell'Agenzia delle entrate con la risposta interpello numero 909 1875 barra 2021. Con la finanziaria 2022 questa cosa è stata finalmente risolta perché adesso gli interventi trainati seguono le scadenze di quelli trainanti. Lo trovi scritto seppur in burocratese nel nuovo comma 8 quater dell'articolo 119 del decreto rilancio. Come ti ho già raccontato per le unifamiliari la finanziaria 2022 ha modificato anche l'articolo 119 comma 4 del decreto rilancio. Quindi anche per i condomini e gli edifici unico proprietario se le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 davano diritto alla detrazione al 110 per cento in cinque anni per le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2022 quindi anche per gli anni successivi si potrà detrarre il 110 per cento in soli quattro anni. Ovviamente nulla cambia per chi intende usufruire delle alternative alle detrazioni ossia cessione del credito e sconto in fattura. Bene anche per oggi è tutto se ti è piaciuto questo video metti like e scrivimi in un commento cosa pensi di queste importanti novità. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto clicca sulla campanella per essere aggiornato quando pubblico un nuovo video e seguimi anche su pagina e gruppo facebook ingegner marcello conto. Se vuoi scoprire come accedere e sfruttare al massimo il super bonus 110 per cento guarda il webinar che ho preparato per te. Trovi tutti i link in descrizione. Un caro abbraccio e a presto.